Ve lo ricordate, il dibattito all'inizio era tutto, ma come Giorgia non stai mantenendo le promesse, tu avevi detto che il superbonus l'avresti migliorato, l'avresti modificato, non che lo avresti cancellato. E invece il governo da un giorno all'altro ha deciso di cancellarlo, un bel problema, e allora il colpo di genio. Sfruttando il fatto che davvero nel superbonus non tutto era rosa e fuori, è stato additato un colpevole, Giuseppe Conte, calcolando e dicendo quella bellissima frase, il superbonus costa 2.000 euro a ogni italiano. E certo che costa 2.000 euro in italiano, anzi noi abbiamo dimostrato che costa la metà, perché ogni provvedimento dello Stato non è a costo zero. Bisogna vedere però se il superbonus è servito o non servito. C'è chi sostiene che sia servito, avrà creato centinaia di migliaia di posti di lavoro ed è riuscito a far ripartire l'economia durante la pandemia. Ma lo spin di Miloni è stato certamente vincente. Nessuno parla più della sua mancata promessa e tutti parlano delle responsabilità di Conte.